Ma non ci sono... la legge è stata approvata dal Senato e quindi come sappiamo essendoci il bicameralismo perfetto sarà poi sottoposta alla Camera, come sempre avviene, ma da nove anni il Senato non approvava un testo della legge elettorale, quindi questo è sicuramente un risultato importante. Un testo migliorato rispetto a quello della Camera, fin tanto che non si attueranno le riforme costituzionali e non supereremo il bicameralismo perfetto, questo ovviamente richiede la nostra Costituzione, ma siamo fiduciosi sui tempi. Grazie, arrivederci.